Speravo andasse così, è andata per il meglio perché comunque non subire gol sia a Cremona che stasera è un piacere particolare al di là di averli fatti. Sono contento che comunque la squadra ha continuato sulla falsariga di Cremona, non era una partita semplice al di là del risultato e dobbiamo continuare così. Parlavo dopo Cremona di continuità a maggior ragione lo dico stasera, quindi adesso Ternana è un bel banco di prova e cerchiamo e cercheremo di dare continuità. Credo che il discorso salvezza a meno che succeda un disastro possa essere archiviato. 49 punti sono importanti, magari step dopo step mettiamo magari dei gradini da poter scalare, se sono 49 il prossimo obiettivo sono 52 e quindi andiamo di partita in partita, vediamo, è chiaro che voi sapete che la squadra lavora sempre con chiunque e dovunque per poter vincere le partite non potrei fare altrimenti in questo momento dove la squadra ha una continuità di prestazione importante. Oltretutto se mi guardo un pochino più indietro a qualche settimana fa il girone di ritorno è stato straordinario e quindi perché non pensare a qualcosa in più e quindi di partita in partita come si dice sempre come se fossero finali, quindi la finale di stasera l'abbiamo vinta, vedremo martedì se saremo in grado di poterlo fare ancora. Non lo so, dovrei rivederla per poter confermare quello che stai dicendo, di sicuro è una prestazione che va sulla falsariga di quelle precedenti. Abbiamo rischiato poco, se dovessi andare a prendere qualcosa che non è andato sicuramente lo troverei nell'arco della partita, però non è facile giocare contro una squadra che si chiude bene, che lavora poi per poter ripartire e farti male senza concedere praticamente niente. Quindi sono assolutamente soddisfatto per quello che sta facendo la squadra, ma in entrambe le fasi, non soltanto nel palleggio nella fase offensiva, che in un certo senso c'è sempre contraddistinto, ma anche nella fase difensiva. Quindi lavorare molto bene in avanti, lavorare sia con gli attaccanti che i centrocampisti e con i difensori, senza concedere il pallegol o il dominio nella metà a campo nostra agli avversari. Questa sera, o mai come questa sera, visto che giocavamo a specchio, bisognava vincere i duelli, tre contro tre e mezzo al campo, i quinti con i quinti, le due punte con i tre attaccanti e i nostri tre difensori, le due punte con i tre difensori e i nostri tre difensori con i due attaccanti. Quindi tutto sommato in ogni zona si doveva vincere proprio il duello, il rimbalzo, la palla che poteva vagare, quindi siamo stati bravi anche in questo. Il primo tempo magari all'inizio potevamo fare un pochino meglio, alzando poi Zambelli e Kragl. Abbiamo sbagliato qualche passaggio nelle imbucate centrali, però c'è una squadra che è assolutamente stata propositiva, è stata sempre in partita, quindi oltre che l'aspetto tecnico, la qualità tecnica, c'è stato l'aspetto mentale. che fa sempre la differenza. Mister, una battuta sul, l'ha rimarcato anche Cosmi, al cinquantatresimo Kragl aggancia Monachelo in area di rigore, sul 2-0, 11 contro 11, poteva cambiare la partita? Sì, poteva assolutamente cambiare. Non so se l'ha rivisto. No, non l'ho visto. Eh sì, era rigore. Non lo so, voi avete visto che era il rigore? Sì. Sì, si poteva andare sul 2-1, si poteva riaprire la partita, non lo so. Però con i secoli, ma se si faceva gol Mazzeo, vincevamo 4-0, se facevamo 3-4 gol nel primo tempo finiva 7-1. Se, a casa mia si dice, se mio nonno era un merlo, mi siedi sulla gabbia e si fula. Eh, non ho capito. Significato? Significato? Se mio nonno era un merlo, io ero nella gabbia a fischiare.